Di nuovo in studio per l'approfondimento, abbiamo detto la crisi, le tasse, gli sprechi, il sisma che colpisce e piega una regione come l'Emilia-Romagna che rappresentava il 2% del PIL nazionale che ora deve fare i conti con un rallentamento dovuto a causa di forza maggiore. Allora, Lalla Golfarelli, responsabile delle politiche locali della CNA, qui per parlare per voce proprio delle piccole e medie imprese artigiane che sono il nucleo più forte, produttivo di questa regione che ha subito una doppia battuta d'arresto, quella per effetto della crisi e quella per effetto del sisma. Abbiamo visto questo decreto sviluppo che contiene un po' di risposte, una vittoria a metà, piena, va abbastanza bene, si poteva fare di più? Il terremoto ha messo a dura prova tutta la nostra regione e naturalmente è come se fosse capitato un disastro in una situazione che già era in grande affanno per la crisi. Il sisma è in un luogo che produceva una parte grande del PIL della regione, una specie di cuore produttivo e anche una parte rilevante del PIL nazionale, basta vedere gli ultimi dati parlano chiaro anche rispetto a questa incidenza specifica. Io penso che noi abbiamo una serie di necessità come associazione delle piccole e medie imprese e come piccole e medie imprese, quelle di poter avere delle certezze di ricominciare a poter lavorare sia sul mercato interno che sul mercato estero. La prima certezza sono i soldi, perché è da lì che si comincia, allora si sperava forse meno, invece 9 miliardi è di più. Se parliamo solo del terremoto e non in generale del decreto sviluppo, diciamo che sul sisma 9 miliardi sono molti, se si pensa che eravamo partiti da 2 miliardi e mezzo. E per quello che riguarda invece l'Europa si era partiti da una stima di 250 milioni di euro e si è arrivati a 6,50. Quindi la pressione molto forte che c'è stata da parte di tutte le forze sociali, sia datoriali che sindacali che sociali e dalle istituzioni, sul governo ha avuto un grande risultato. Devo dire che anche i parlamentari hanno fatto, questo è un dato, questo è un dato molto rilevante. Poi c'è il dato invece, le tasse che sono la scadenza imminente. Diciamo un altro dato che penso sia importante dire anche per gli imprenditori. Ancora non erano state chiuse delle possibilità normative che si chiudono con questo atto di oggi, il protocollo e il decreto. Che è la certezza che ci saranno finanziamenti anche per le strumentazioni, macchinari, eccetera. Questo ancora era incerto. C'erano degli impegni della regione, delle parole del governo, ma non si era chiuso. Guarda, questo è molto importante perché una parte grande, oltre che i capannoni, in generale le aziende, la parte degli immobili, anche tutta la parte di funzionamento riguarda le scorte e i prodotti, quindi, e dall'altro lato appunto i macchinari e la strumentazione. Altrimenti non si può lavorare, no? Non si può lavorare. E l'altra cosa è la certezza che i 6 miliardi, come diciamo noi, devono arrivare subito, con questo decreto hanno avuto un'accelerazione oggettiva del fondo perduto. Quindi noi possiamo pensare, abbiamo compreso a quello che c'è scritto, che è possibile cominciare a vedere i primi finanziamenti reali da gennaio. Che, voi capite, è una cosa importante. La famosa boccata d'ossigeno. Però, prima di quella data abbiamo detto, c'erano le scadenze fiscali sulle quali si chiedeva un margine. Sì, noi come associazione di impresa dobbiamo dire una cosa principale. È che per poter lavorare, lavorare bene le imprese, guardate stanno già lavorando, là in mezzo praticamente dal secondo giorno. Dal secondo giorno, i tendoni, è iniziata la delocalizzazione, merito delle istituzioni e merito delle imprese, di questa straordinaria voglia di lavorare e di fare degli miliani, che a volte si arrabbiano, ma si arrabbiano solitamente di un'arrabbiatura propositiva, che poi fa, fa, cerca di macinare. E, però, un imprenditore e delle imprese hanno bisogno di certezze. Cioè, hanno bisogno di sapere quando arrivano i soldi del fondo perduto, quando quelli per poter delocalizzare. Insomma, hanno bisogno di mettere una cosa davanti all'altra per poter reprogrammare la ripresa della sua attività, il cambiamento della sua attività, in una situazione come questa, nella doppia crisi del sisma e della crisi più generale. E per questo, il non sapere in modo preciso, in modo semplice, che ci può essere... Perché è un po' tortuosa questa soluzione trovata? Ma, perché la richiesta era, rinviamo il pagamento delle parti fiscali a giugno del 2013. Una domanda legittima, no? Fra l'altro, in passato, così si è fatto per l'Aquila. E invece questa volta si è trovato questo... Invece questa volta si è trovato un meccanismo, io penso che si sia trovato soprattutto per la pressione sfinita del commissario, che assolutamente voleva che ci fosse, c'era un patto, un ragionamento forte con le associazioni di impresa, si è trovato un modo per cui, di fatto, le imprese non avranno questo spostamento, ma potranno chiedere i soldi a fondo perduto che verranno dalle casse depositi e prestiti attraverso il sistema bancario. Voi capite che non è un modo... Quando si parla di semplificazione, questo non sembra proprio una grande semplificazione. E poi, siccome in questi mesi i rapporti col sistema bancario non sono sempre stati semplicissimi, questa intermediazione viene vissuta con grande ansia. E la domanda è stata una domanda secca, ma perché? La risposta? La risposta è che una scelta di quel tipo, un rinvio, avrebbe inciso immediatamente sui conti dello Stato e nell'attuale situazione, nella quale l'Italia è... Non ce lo possiamo permettere? No, non possiamo farlo, perché i patti sottoscritti, anche con l'Europa, non ci consentono questi spostamenti. Lei già parzialmente mi ha risposto. Io mi permetto di dire che a volte penso che sia meglio essere più severi, con taglie di spese inutili, piuttosto che continuare a fare cose che mettono davvero in ansia. Perché, vedete, a stare là in mezzo, la cosa che si capisce è che vivendo lì ogni giorno, lavorando lì ogni giorno, buttando il cuore oltre l'ostacolo, ogni giorno... C'è più motivazione, rabbia o rassegnazione? Motivazione. Motivazione. Anche la rabbia è una rabbia da motivazione. Propulsiva. Sì, è una rabbia da motivazione. Dal voler fare e fare bene, e volere che gli altri facciano bene. Questo è l'altro tema. Noi stiamo finendo il nostro tempo a disposizione, però volevo chiederle un commento proprio perché lei ha un contatto diretto con queste persone che, nonostante siano arrabbiate, trasformano la rabbia in una motivazione a correre, a rimboccarsi le maniche, a non arrestarsi. Questo protocollo era contenuto in un decreto che va ad incidere sugli sprechi. le regioni trovano l'ingresso, vedono l'ingresso delle fiamme gialle che va a scandagliare i loro conti perché si è evidentemente esagerato. Anche l'Emilia Romagna non è il Lazio, però anche qui si va a cercare quelle che sono considerate spese eccessive perché evidentemente qualche leggerezza deve essere stata compiuta. Come vengono viste queste cose? Beh, diciamo che c'è stata la denuncia di un gruppo consigliare, c'è l'obbligatorietà di procedere alle verifiche e questo è del tutto normale che ci sia. Per valutare tutti questi faldoni non è in tutto quello. E naturalmente ci vorrà molto tempo. Noi abbiamo la percezione che anche qui si possa, diciamo così, ancora comprimere la spesa per la politica. Fanno arrabbiare questi sprechi, questi soldi. Sì, fanno da un lato arrabbiare e soprattutto fanno distaccare, questo è il tema, perché in questo caso è difficile avere un'arrabbiatura propositiva e invece è necessario anche su questo cercare di capire come canalizzare la critica, l'indignazione e farla diventare proposta. Una risposta potrebbe essere l'ultima dichiarazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che dice l'Italia è travagliata, c'è bisogno di uno slancio morale, magari ripartendo da questo slancio. Sì, di uno slancio morale ma dal punto di vista delle imprese anche un potente slancio di organizzazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione, perché è vero che ci sono gli sprechi della politica, ma è vero che c'è uno spreco particolare del sistema istituzionale italiano. Lapidaria, i tecnici in questo hanno lasciato il segno, lo lasceranno o anche loro si sono persi? Ma no, in parte hanno lasciato il segno, se non altro dal punto di vista della semplificazione, della spending review, nel bene e nel male, i tagli sono stati un po' troppo piatti e dovevano essere più motivati, perché c'è una questione di eccesso di semplificazione in quel caso, mentre la semplificazione per la pubblica amministrazione è stata una cosa virtuosa. Mi limito a dire questo però, il male del nostro paese è un eccesso di spesa pubblica, non un eccesso di spesa della politica, anzi sì un eccesso di spesa della politica, ma soprattutto un eccesso di spesa pubblica non ben finalizzata. Non ben incanalata, ma insomma forse questo taglio di cui parlava Catriccala, che abbiamo detto in apertura di Tg, del 95% dei fondi a disposizione dei gruppi può dare un segnale? Ma è una goccia necessaria per l'etica, ma noi abbiamo bisogno di un temporale necessario per lo sviluppo. Grazie Lalla Golfarelli per essere stata in nostra compagnia, le previsioni del tempo, quindi la linea a Giada Giacalone con lo sport.